Loro si sono presi cura di te con amore da sempre. Ora è il momento di scegliere il meglio per i tuoi cari. Casa Serena, Cava dei Tirreni, si prende cura di loro garantendo sicurezza, qualità e professionalità. Con una Europa che si risveglia collocandosi più a destra, dove a fare notizia è soprattutto il trionfo di Marine Le Pen in Francia e la sorprendente affermazione dell'estrema destra in Germania, che supera tutti i partiti attualmente al governo, risulta essere pienamente significativa anche la tenuta di Fratelli d'Italia, che sfiora il 29%, quindi migliorando di circa tre punti rispetto al dato delle precedenti elezioni politiche, gli stessi tre punti in più che in generale la coalizione di governo porta a casa rispetto al risultato del 2022. Se il partito della Premier Meloni quindi può chiaramente festeggiare e guardare al prossimo futuro sulla base di ancora maggiori certezze, può ritenersi pienamente soddisfatta anche la seconda forza di governo, Forza Italia, che rispetto al dato alla Camera di due anni fa guadagna oltre un punto e mezzo percentuale, nonostante la scomparsa del fondatore del partito. La Lega migliora di pochi decimi ma diventa la terza forza della maggioranza, superata proprio da Forza Italia. Un'ottima crescita è poi quella registrata dal Partito Democratico. Anche qui, confrontando i dati alla Camera del 2022, si è passati dal 19,1% ad oltre il 24%, recuperando molto terreno a discapito del Movimento 5 Stelle, che cala dal 15% di circa 5 punti, o di azione, che alle politiche aveva registrato un 7,8% con Italia Viva e Calenda, mentre alle europee non riesce a superare la soglia di sbarramento. Proviamo adesso ad operare un rapido confronto con quelle che sono le preferenze espresse nella città di Cava dei Tirreni o in alcuni centri vicini. Nella città metelliana è ancora più evidente l'affermazione di Fratelli d'Italia, che raccoglie il 31,23% dei consensi, quando alle elezioni per la Camera del 2022 era sul 24,82. Forza Italia mantiene lo stesso risultato del 2022, mentre la Lega recupera guadagnando un punto. In calo, anche se non di molto, il consenso per il Partito Democratico, 18,43% contro il 20,82% di due anni fa. Decisamente più evidente è la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle, che scende di 8 punti percentuali, registrando a Cava il 15,61%. Da segnalare, sempre a Cava dei Tirreni, il 6,29% di Stati Uniti d'Europa, sensibilmente più alto rispetto alla media nazionale, che non consente di superare però la soglia di sbarramento. Un'analisi veloce sul dato politico complessivo della città metelliana può riassumersi con una piena affermazione di Fratelli d'Italia, che toglie quindi voti al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, rispetto alle precedenti politiche. Nella città capoluogo di provincia, come era prevedibile, il Partito Democratico si conferma invece come primo partito, con un netto 27,29%, a Salerno Fratelli d'Italia non va oltre il 19,89%, mantenendo il risultato di due anni prima. Guardando anno c'era inferiore, il PD riesce, anche se con pochissimo margine, ad affermarsi come primo partito, distaccando Fratelli d'Italia di 0,58 punti, ma guadagnando ben 4 punti rispetto alle politiche del 2022. Dove c'è stato un vero e proprio plebiscito per Fratelli d'Italia è nel comune di Pagani, 6.128 preferenze pari al 52,05%. A Vietri sul mare, infine, il PD mantiene il primato tra i partiti con il 27,39%. Grazie. Grazie.